Quando il terremoto del 2012 ha sconvolto il territorio casalasco e mantovano, le informazioni geologiche e sismologiche erano carenti e così gestire le conseguenze del sisma è stato ancora più difficile. Ormai lo scrive nero su bianco in questi giorni anche il presidente della provincia di Cremona, Carlo Vizzini, che dà il via con una delibera firmata l'11 agosto e resa nota oggi a un accordo di collaborazione per la mappatura del rischio sismico. L'ente provincia vuole quindi provvedere a una pianificazione territoriale adeguata dopo uno studio in collaborazione con la regione Lombardia, la provincia di Mantua, l'Università di Bologna e il CNR, con l'obiettivo di concludere l'analisi entro la fine di quest'anno. Di conseguenza sarà possibile, al momento di approvare la pianificazione territoriale, calcolare il rischio sismico sugli edifici e le infrastrutture. La riclassificazione delle singole zone della provincia di Cremona, come degli altri territori, è stata approvata dalla regione Lombardia nel luglio dell'anno scorso, rivedendo la situazione di ciascun comune. Cade una sorta di tabù, di rischio sismico si può, anzi si deve parlare nel territorio provinciale, da anni sempre più infittito da attività estrattive e stoccaggi di metano, tuttavia nello schema di collaborazione approvato dall'ente provincia non si fa riferimento per ora agli stoccaggi. Per i comitati ambientalisti, cioè i NOTRIV di Bordolano e Serniano, sarebbe il caso di sospendere nuove autorizzazioni in attesa dei risultati dello studio che sta per essere varato, perché dovrebbe prevalere il principio di precauzione già applicato da sentenze del Consiglio di Stato. Infatti, in presenza di un rischio dimostrato, bisognerebbe, secondo i comitati, evitare di esporre l'ambiente e tutti gli esseri viventi a pericoli tutt'altro che necessari. Segnali negativi arrivano però dalla Regione Emilia-Romagna, che dopo aver recepito le linee guida del Ministero dell'Ambiente per il monitoraggio e la prevenzione del rischio sismico, ha fatto sapere di poter quindi esaminare nuove proposte di ricerca di idrocarburi e nuove attività estrattive nel sottosuolo. Sinora, la Regione Lombardia ha seguito una linea prudente dopo aver fermato l'aumento di pressione del gas nello stoccaggio di Serniano. Accrescendo la pressione del metano, infatti, il sottosuolo subirebbe sollecitazioni maggiori, dato che il gas viene immesso e poi estratto per essere distribuito tramite la rete di metanodotti scavata sottoterra nella provincia di Cremona. A questo punto la nuova mappatura potrebbe trasformarsi in una sorta di messa in sicurezza che però, come dicono gli atti ministeriali, contemplerebbe sismi 3.0 nelle zone degli stoccaggi che hanno un raggio di circa 15 chilometri.